ben ritrovati sono fabio pizzolo e questo è il dialogo con i lombardi lo spazio che settimanalmente dedico al dialogo con voi a partire dalle domande che avete la bontà di inviarmi ne sono giunte tre questa settimana cominciamo subito con la prima buongiorno fabio sono giuliano volevo chiedere una tua opinione sul tema attualmente in corso in parlamento sul salario minimo le opposizioni tutte praticamente sono a favore di questa misura invece il governo si è espresso nettamente contrario volevo un tuo parere cosa cosa ne pensi ritieni che sia una misura giusta per dare tutela ai lavoratori grazie giuliano quello del salario minimo è un dibattito che va avanti da qualche tempo perché è una elemento che fa riflettere sul fatto che in italia il lavoro spesso è un lavoro povero un lavoro sottopagato è arrivato in effetti in parlamento con una concordanza effettivamente come tu dici giuliano tra tutte le opposizioni con sfumature diverse sulle quali poi magari torneremo tra poco però io credo per rispondere direttamente la tua domanda che sia effettivamente una misura importante non tanto per le conseguenze diffuse su tutti i lavoratori quanto perché simbolicamente affermerebbe un principio cioè il fatto che ogni lavoro va correttamente retribuito perché dico che non avrebbe un effetto così diffuso perché in realtà in italia rispetto ad altri paesi europei abbiamo dei contratti collettivi che già arrivano a presidiare questo tema e che garantiscono comunque un livello di retribuzione spesso anche già al minimo più alto rispetto a quello che verrebbe indicato dal salario minimo e questa è una delle differenze tra le diverse forze di opposizione ovvero la rilevanza e significato che può avere il salario minimo rispetto ai contratti di lavoro collettivi qualcuno di voi avrà sentito che i sindacati hanno sempre espresso qualche perplessità riguardo l'introduzione per legge di un salario minimo e la perplessità deriva proprio da questo dal fatto che esistono già dei contratti collettivi nazionali che garantiscono la paga minima per coloro che vedono applicati questi contratti il problema qual è talvolta si è di fronte a una scarsa chiarezza dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro o meglio esistono ormai centinaia di contratti collettivi siglati dalle più diverse sigle sindacali anche quelle pochissimo rappresentative che vanno a creare una estrema differenziazione di quelle che sono le caratteristiche retributive dei lavoratori assoggettati a questi contratti e quindi un'estrema variabilità anche nella possibile identificazione di un minimo salariale. Certo ci sono dei contratti collettivi molto tutelanti che tra l'altro hanno la possibilità perché siglati dai sindacati più rappresentativi poi di avere attraverso la contrattazione territoriale ulteriori vantaggi per i lavoratori, ci sono invece contratti collettivi siglati da rappresentanze sindacali poco presenti, poco qualificate, poco diffuse che invece hanno dei minimi salariali molto molto traballanti. Ma torniamo al salario minimo, a cosa servirebbe allora dunque secondo la visione del Partito Democratico e di altre forze politiche? Ad andare a coprire quei lavoratori che non vedono applicato il contratto collettivo siglato con i sindacati. Quel pezzettino di lavoratori, sicuramente non maggioritario, però presente nel nostro Paese potrebbe godere appunto di questa possibilità di avere un salario minimo per legge che tutelerebbe i lavoratori più fragili. Pensiamo ai rider che vengono presi a simbolo insomma per una categoria dei working poor, dei lavoratori poveri, di coloro che hanno quindi un salario assolutamente inadeguato. Ecco queste categorie potrebbero giovare, gioverebbero sicuramente anzi di una norma che riguarda il salario minimo, che avrebbe un grandissimo valore simbolico. Ci sarebbe un pericolo poi secondo i sindacati, ovvero il fatto che delle aziende andando a scoprire che il salario minimo per legge potrebbe essere più conveniente per l'azienda e meno conveniente magari per il lavoratore rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione di un contratto di lavoro collettivo, potrebbero disdire il contratto collettivo e accedere all'ipotesi di rispettare la legge del salario minimo pagando così di meno i lavoratori. Ecco la delicatezza che bisognerà avere nel momento in cui si discuterà di salario minimo e si approverà l'eventuale legge per il salario minimo è quella di inserire delle clausole molto precise per cui in presenza di un contratto collettivo di lavoro più favorevole questo non venga stracciato dalle aziende per andare a siglare un più conveniente contratto che faccia riferimento al salario minimo stabilito per legge. Non so se ho confuso le idee Giuliano, questo è il punto di vista, credo però che sia un dibattito importante che vada però come sempre accade in politica strutturato non secondo dei criteri ideologici o comunque astratti ma calato poi nella concretezza di quella che è la situazione del mercato del lavoro e delle leggi sul lavoro in Italia. Quindi la priorità deve essere il mantenimento dei contratti collettivi nazionali attraverso il contributo fondamentale dei sindacati e laddove ci fossero dei buchi ovvero dei lavoratori non coperti da questi contratti collettivi nell'ottica comunque di far sì che le aziende possano andare verso questa applicazione dei contratti collettivi ecco laddove però non ci siano ancora arrivate o non vogliano farlo ecco il salario minimo secondo me avrebbe un valore molto molto importante. Andiamo a sentire la seconda domanda. Caro Fabio ho gradito e apprezzato molto il tuo pensiero preciso, un discorso direi sulla nuova composizione dei consiglieri assessorati del nuovo Consiglio regionale Lombardo. Ecco mi farebbe piacere ma credo lo sia per molti ascoltatori sapere il tuo parere sulla composizione dei consiglieri di opposizione e quali passi direi politici e culturali ti auspichi possano intraprendere in Consiglio e io direi anche nel territorio Lombardo. Grazie Silvio per questa domanda in realtà più che i consiglieri di maggioranza io nello scorso podcast ho dato una rapida disamina riguardo i componenti della giunta regionale. I consiglieri di maggioranza sono ben più di quelli che vanno a comporre la giunta regionale sono 48 49 anzi per la precisione e 31 sono i consiglieri di minoranza. Ti accontento però dando un'occhiata a quella che è la composizione di fatto del Consiglio quindi dando un'occhiata sia maggioranza sia opposizione. Lo faccio velocemente perché appunto sono 80 globalmente i consiglieri sarebbe un po' lunga. Lo facciamo per aree geografiche. Partiamo da Bergamo. Per Fratelli d'Italia Paolo Franco, Lara Magoni e Michele Schiavi. In realtà Paolo Franco e Lara Magoni sono poi diventati parte della giunta quindi verranno sostituiti. Paolo Franco e Lara Magoni già presenti nella scorsa legislatura hanno fatto un passo avanti perché appunto sono diventati l'una sottosegretaria l'altro assessore. Per la Lega Francesco Malanchini e Roberto Anelli. Nella scorsa legislatura Malanchini era segretario dell'Aula del Consiglio regionale. Questa volta ha dovuto cedere il passo quindi rimane consigliere tra virgolette semplice. Roberto Anelli era capogruppo della Lega. Anche lui tra virgolette retrocede perché sarà un consigliere semplice o comunque avrà un ruolo in commissione visto che non sarà più capogruppo della Lega. Per Forza Italia a Jonathan Lobati, un nuovo ingresso che di fatto non conosco, per il PD Davide Casate Jacopo Scandella. Jacopo Scandella consigliere uscente alla sua terza legislatura, sarà segretario dell'Aula del Consiglio regionale. Davide Casati record man di preferenze, area cattolica, sindaco di Scanzo Rosciate, ha preso 14.000 preferenze. Davide credo che sarà un ottimo consigliere regionale e ha un grande supporto del suo territorio. Per la lista Moratti presidente, Ivan Rota, ex parlamentare di Pietro, quindi parliamo di un'esperienza ormai datata nel tempo. Ivan Rota è un combattivo politico che sicuramente farà bene, molto passionale in Consiglio regionale. Andiamo a Brescia. Carlo Bravo, Barbara Mazzali e Diego Invernici per quanto riguarda Fratelli d'Italia, con Barbara Mazzali che farà l'assessore. Per la Lega Floriano Massardi e Davide Caparini. Massardi è un ex consigliere regionale ed è tra l'altro esponente di punta, chiamiamolo così, anche perché è un termine punta che ha a che fare col settore di cui sto per parlare, del mondo della caccia. È eletto dai cacciatori bresciani, questo è evidente, ed è stato protagonista nella scorsa legislatura della legge approvata sullo spiedo bresciano. E poi Davide Caparini, Camuno, ex assessore al bilancio di regione Lombardia, quindi torna questa volta sui banchi del Consiglio e non più su quelli della Giunta. Caparini, figlio di quel Bruno Caparini, che è stato uno dei fondatori della Lega assieme a Bossi. Ed uno dei motivi per cui Bossi ha scelto Ponte di Legno come luogo delle sue vacanze estive. Per Forza Italia, Simona Tironi, che diventa assessore alla formazione, quindi sarà un subentro al suo posto. Per il PD, Emilio Del Bono, record man di preferenze, attuale sindaco di Brescia, 36.000 preferenze e oltre ottenute nella circoscrizione di Brescia. Emilio sarà vicepresidente del Consiglio regionale, quindi un luogo di prestigio che saprà interpretare al meglio. Poi Miriam Cominelli, già consigliera regionale subentrata a Gianni Girelli, quando nella scorsa legislatura Gianni è diventato parlamentare. Miriam quindi rientrerà in Consiglio. A proposito, auguri anche a Miriam perché in dolce attesa nel mese di luglio dovrebbe arrivare appunto una sorpresa anche per lei. Paola Pollini per il Movimento 5 Stelle, non la conosco, e per azione Massimo Vizzardi, anche lui non lo conosco. Andiamo a Como, Alessandro Fermi per la Lega, ex presidente del Consiglio regionale, diventa assessore all'Università e alla Ricerca. Al suo posto subentra un'altra consigliera uscente, ovvero Gigliola Spelzini, rappresentante dell'Alto Lago, insegnante e competente sui temi della scuola. Fratelli d'Italia, Anna Dotti, conosco il padre perché due legislature fa era consigliere regionale per Fratelli d'Italia e di fatto è rappresentante dell'Alto Lago, però Anna non la conosco. Per Forza Italia Stefano Gaddi, Stefano Gaddi è già assessore alla cultura del Comune di Como, era noto a Como per le grandi mostre che ha portato a Villa Erba. Per Lombardia Ideale, Marisa Cesana che non conosco, per il PD confermato Angelo Orsenigo, area cattolica che ha avuto un bel consenso sul territorio. Andiamo a Cremona, per Fratelli d'Italia, Marcello Maria Ventura che non conosco, per la Lega Filippo Bongiovanni che non conosco, per il PD Matteo Piloni, consigliere uscente, cremasco, molto molto presente e capaci di rappresentare il territorio. Andiamo a Lecco per Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini, anche questo non lo conosco, per la Lega Mauro Piazza che poi è diventato sottosegretario, quindi subentrerà qualcuno per la Lega che però non conosco, e per il PD Gian Mario Fragomeli, già parlamentare che è stato nelle commissioni di bilancio della Camera per parecchi anni, molto competente su questi temi e sicuramente saprà dare del filo da torcere alla Giunta proprio su questi temi del bilancio. Andiamo a Lodi, per Fratelli d'Italia Patrizia Baffi, vecchia conoscenza del PD perché nella scorsa legislatura fu eletta nella lista del PD per poi passare a Italia Viva e poi a Fratelli d'Italia, ed ora è stata eletta con Fratelli d'Italia. Per il PD Roberta Vallacchi, segretaria provinciale del PD, molto presente sul territorio, molto capace di tenere buone relazioni sul territorio lodigiano che saprà ben rappresentare in Consiglio regionale. Andiamo a Mantua, Fratelli d'Italia, Alessandro Bedischi, non conosco, per la Lega Alessandra Cappellari che diventa segretaria d'Aula ed era presidente della Commissione Affari Istituzionali nella scorsa legislatura. Per il PD Marco Carra, già parlamentare, esperto di temi legati alle infrastrutture e all'agricoltura che ben rappresenterà a nome del territorio lombardo. Milano, Milano sono tanti eletti, quindi non parlo della maggioranza ma solo della minoranza. Per Lombardia ideale, quindi la lista legata a Letizia Moratti, Carmelo Ferraro, esponente dell'Ordine degli Avvocati, molto molto presente sul territorio con tante iniziative. Per il PD Paolo Romano, 26enne, 9.000 preferenze, assessore del Municipio Otto, ha fatto una bellissima campagna elettorale e giovanissimo è riuscito a entrare in Consiglio. Poi Paolo Borghetti, è il sito Carlo Borghetti, che è vicepresidente uscente del Consiglio regionale, alla sua quarta legislatura regionale, eletto con un consenso sempre costante sul territorio. Pietro Bussolati, anche lui già presente in Consiglio regionale, con una campagna elettorale molto molto puntuale sul territorio, rientra in Consiglio. Alfredo Simone Negri, sindaco di Cesano Boscone, rappresentante in città metropolitana per i sindaci sul tema dell'ambiente e delle infrastrutture, quindi grande consenso soprattutto nel suo territorio. Carmela Rozza, consigliera uscente, riconfermata, e Paola Bocci, anche lei riconfermata. Per il patto civico, Marino Presidente. Michela Palestra, sindaca di Arese, presidente uscente del Parco Sud Milano, sindaca molto combattiva, molto puntuale, molto precisa, quindi farà bene. Luca Paladini, leader dei Sentinelli, quella associazione, aggregazione che difende i diritti, soprattutto del mondo LGBTQ+, protagonista ieri, ad esempio, della manifestazione che è stata in Piazza della Scala per il riconoscimento e la trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali. Ne parleremo comunque tra poco. Per il Movimento 5 Stelle, Nicola Di Marco, capogruppo uscente dello stesso movimento, e Paola Pizzighini, molto vicina a un consigliere uscente e non rieletto dei 5 Stelle, ovvero una spina nel fianco, era stata nella maggioranza, ma un po' per tutto il consiglio, Piccirillo si chiamava, ed è molto vicino appunto a Paola Pizzighini. Per Alleanza Verdi, Sinistra, Onorio Rosati, vecchia conoscenza, perché già Presidente, anzi della Camera della, segretario, scusate, della Camera del Lavoro di Milano, già consigliere regionale per il PD nella decima legislatura, rientra in questo modo. Per la lista Moratti, Manfredi Palmeri, che di fatto rientra in consiglio, ha una lunga carriera politica, perché era stato Presidente del Consiglio Comunale di Milano. Mi correggo, Lombardia Ideale, Carmelo Ferraro, non era con la lista Moratti, ma era con la lista a sostegno di Fontana, quindi scusate questa incertezza che ho avuto. Per azione entra Lisa Noia, già parlamentare, che è esperta in temi legati alla disabilità, in quanto anche lei è portatrice, persona portatrice di disabilità, sicuramente quella di Lisa è una presenza molto, molto preziosa. Velocemente andiamo a Monza, per Fratelli d'Italia Federico Romani, consigliere uscente, che diventa Presidente del Consiglio regionale, e Alessia Villa, che non conosco. Per la Lega, Alessandro Corbetta, che diventa capogruppo della Lega in consiglio, succedendo, come dicevo, al rieletto Anelli, che però cede il passo per quanto riguarda la presidenza del gruppo Lega. Per Forza Italia, Filippo Figgini, che diventa capogruppo di Forza Italia in consiglio, che però non conosco perché non era presente nella precedente legislatura. Per Lombardia Ideale, lista collegata a Fontana e Jacopo Dozio, che non conosco. Per la lista Moratti, Martina Sassoli. Andiamo a Pavia, Fratelli d'Italia, Claudio Mangiarotti, non conosco. Per la Lega Elena Lucchini, che diventa assessora ai servizi sociali. Per Forza Italia, Ruggero Invernizzi, già presente nella scorsa legislatura, medico, si è occupato di agricoltura nella precedente legislatura ed è un esponente politico molto capace di mediazione e di ascolto anche delle minoranze. Per Lombardia Ideale, Alessandro Cantoni, che non conosco. A Sondrio, siamo verso la fine, Massimo Sertori, che viene riconfermato per la Lega, assessore alla montagna agli enti locali, subentrerà qualcun altro al posto suo. Chiudiamo con Varese, Fratelli d'Italia, Giuseppe De Bernardi Martignoni, che non conosco, e Francesca Caruso, che diventa assessora alla cultura ed è attualmente assessora alla sicurezza di Gallarate. Vedremo cosa saprà fare nella cultura. Per la Lega Emanuele Monti, che era presidente nella scorsa legislatura della Commissione Sanità e che avrebbe aspirato a qualcosa in più, ma non entra in giunta. Vedremo che ruolo avrà in consiglio. Per Lombardia Ideale, Giacomo Basaglia Cosentino, che diventa vicepresidente del Consiglio regionale, avrebbe aspirato a un ruolo in giunta, ma per ragioni di equilibrio della lista Fontana o Lombardia Ideale, che aveva necessità di dare un ruolo anche a qualcuno di Brescia, ha ceduto appunto a un eletto a Brescia la carica di assessore e si deve, tra virgolette, accontentare della vicepresidenza del Consiglio. Per il PD, Samuele Astuti, che è riconfermato con molti voti sul territorio. Per la lista Moratti, Luca Ferrazzi, vecchia conoscenza perché nella decima legislatura era in consiglio ed era presidente della Commissione Cultura, e per azione Giuseppe Licata, che non conosco. Silvio, ho fatto questa lunga cavalcata, spero di non aver confuso troppo le idee a tutti voi. L'auspicio che mi chiedevi è qual è, è quello che le minoranze riescano a fare battaglia comune. Non si è cominciato molto bene, perché c'è stato un netto centro, per così dire, politico tra Terzopole, Lista Moratti e PD, perché il PD ha scelto, avendo i numeri per farlo, di avere in ufficio di presidenza sia il vicepresidente sia il segretario d'aula, con Emilio Del Bono e Jacopo Scandella, cosa che ha molto indispettito Lista Moratti e Azione Italia Viva, che hanno subito detto partiamo male, non riusciamo a collaborare. Io credo però che ci siano tutte le condizioni per costruire una opposizione comune, con il fatto che il PD è nettamente il primo partito, perché ha 18 consiglieri contro i tre della lista legata a Azione Italia Viva e quattro della lista Moratti, quindi sette del Terzo Polo, i tre degli esponenti dei Cinque Stelle e poi abbiamo uno di Sinistra e Verdi e due della lista che fa capo a Maiorino, però sono due molto molto vicini al PD. Ecco questa è la composizione delle minoranze, spero che possano lavorare assieme come abbiamo tentato di fare nella scorsa legislatura. Bene, prendiamo un po' fiato e sentiamo l'ultima domanda. Fabio, ciao, sono Paolo e chiamo da Milano. Si dibatte oggi sulla registrazione automatica all'anagrafe dei figli di copie omogenitoriali, prevalentemente provenienti dall'estero. La trascrizione attivata dal comune di Milano è stata sospesa dal governo attraverso il prefetto in base alla legge 40 e a sentenze della Cassazione che viedono l'utero in affitto. Tutela del minore e surroga di maternità sono aspetti distinti, ma chiaramente vicini fra loro, aspetti che rischiano anzi di sovrapporsi perché l'automatica trascrizione manda un messaggio di sostegno alla gestazione surrogata. La gestazione per altri resta una sopraffazione perché con contratto oneroso sottrae alla gestante il suo bambino e al bambino la sua mamma, bambino che oltretutto ha diritto di conoscere la propria origine. La situazione si può oggi giuridicamente sanare con l'adozione speciale da parte del partner convivente, procedura lunga ma fondata. Mi pare che la politica dovrebbe tutelare le componenti deboli gestante e bambino. Se i partiti, sinistra compresa, raffreddassero la competizione ideologica si potrebbe forse riaprire maggiori spazi di approfondimento parlamentare per l'apertura dell'adozione ordinaria, per rendere più veloce quella speciale, per nuove forme di tutela di donne e minori. Scusa la lunghezza ma cosa ne pensi? Grazie. Grazie Paolo, ti ringrazio per la dettagliata più che domanda d'esamina riguardo la vicenda della trascrizione automatica, ecco è fondamentale questo termine, dei figli delle coppie omogenitoriali. Sono d'accordo con te Paolo, è una situazione che dovremmo togliere dal dibattito, anzi dallo scontro ideologico e tentare di approfondire, a partire da quelli che sono alcuni caposaldi. Il primo caposaldo che io mi sento di sostenere è il no al cosiddetto utero in affitto o gestazione per altri o maternità surrogata, ovvero l'utilizzo di una donna che ha una gravidanza che è funzionale, anzi mirata, ad avere un frutto appunto di questa gravidanza, un bambino che poi viene consegnato ad altri. Qualcuno potrebbe dire, giusto che non si faccia uso della maternità surrogata, utero in affitto per ragioni commerciali, a pagamento quant'altro, se però una donna vuole farlo volontariamente, magari poi con un rimborso spese perché no. Io ho molti dubbi su questo, anzi io credo che su questo ci debba essere una legislazione molto molto precisa per evitare qualsiasi tipo di sfruttamento e quindi pensare che una maternità surrogata o utero in affitto impedito per legge, vietato per legge, almeno in Italia, possa surrettiziamente essere utilizzato attraverso la trascrizione automatica in un registro delle figlie e delle coppie omogenitoriali che hanno ottenuto un figlio all'estero attraverso la maternità surrogata, ecco questo mi sembra francamente una forzatura inaccettabile al momento. Diverso è il discorso invece che viene fatto a bisogna dare la priorità ai diritti dei bambini. Certo, una volta che un bambino esiste, c'è e in vita, gli devono essere dati tutti i diritti possibili, attraverso tutti gli strumenti possibili, perché non deve essere un bambino diverso dagli altri. Se però questo bambino è portatore di una storia che vede il suo arrivo, la sua nascita è collegata a delle pratiche che di fatto sono discutibili e scorrette, beh su questo bisogna fare un ragionamento, al di là dell'ideologia ma serio, perché il diritto del bambino non è semplicemente quello di avere dei servizi successivamente, ma anche quello di essere tutelato fin dalla sua nascita, perché altrimenti il rischio davvero è che creiamo una discriminazione e creiamo dei bambini che dal punto di vista della loro esperienza vitale poi dovranno subire tutta una serie di elementi. Che è vero che poi una volta che uno è coperto, avvolto dall'affetto anche di una coppia di genitori anche dello stesso sesso, poi potrà vivere bene, potrà crescere bene. Però, però, attenzione, dietro la volontà di avere a tutti i costi un figlio non si può coprire anche una, tra virgolette, violenza nei confronti di questo figlio per quanto riguarda il modo in cui è stato chiamato alla vita. È un po' semplicissimo quello che sto dicendo, però per far cogliere come i diritti devono essere affrontati a tutto tondo, non possono essere diritti solo di coloro che vogliono a tutti i costi un figlio, a prescindere da quella che è l'esperienza da cui arriva, nasce quel figlio e a prescindere da una storia che poi è una storia che quel figlio si porta dentro, non è che cancello automaticamente quasi attivando un interruttore nel momento in cui quel figlio è mio e allora, siccome io sono bravo, siccome io lo voglio, per lui sarà tutto normale. Quindi, per chiarire, per non farla troppo lunga, perché Paolo ha spiegato già bene, ok il riconoscimento dei diritti, però quell'automatismo della trascrizione sa molto di pilatesco, di farisaico, ovvero facciamo una trascrizione, basta, chi si è visto si è visto, noi siamo a posto. E no, io credo che ci debba essere una responsabilità da parte dei genitori che intendono ottenere un figlio, in quanto genitori dello stesso sesso, e allora quella strada indicata da Paolo dell'adozione speciale, seppure lunga al momento, mi pare più adeguata. Certo, allora che fare? Secondo me per legge bisogna semplificare molto quei meccanismi di adozione, adozione in generale, adozione speciale in particolare, e far sì però che diventino una effettiva responsabilizzazione dei genitori di coppie omogenitoriali, perché la trascrizione automatica mi sembra un elemento che de-responsabilizza, che banalizza molto. Invece, secondo me, ci deve essere una dimensione di ufficialità, di responsabilità, che non significa creare ostacoli, ma significa creare presupposti perché una scelta sia scelta consapevole e sia scelta che garantisce diritti a tutti, ai genitori e anche e soprattutto ai figli, perché se dobbiamo guardare i più deboli, i più deboli sono i figli, e la loro debolezza non viene sanata solo per volontà o per automatismo di genitori che vogliono una certa cosa, ma va tutelata, la loro debolezza va risolta fin dall'inizio e con tutte le modalità, perché i loro diritti possono essere garantiti a 360 gradi, a partire da quello biologico alla nascita, perché appunto la maternità sorgata autori in affitto, per come viene utilizzata oggi, soprattutto in alcuni paesi esteri, è sfruttamento, ne non è un atto di amore e di disponibilità nei confronti di qualcun altro. Quindi temi molto molto delicati, è vero quello che diceva Paolo e su questo concludo, toglierli da una dimensione ideologica, di scontro di piazza, diciamo così, potrebbe garantire un dibattito parlamentare più approfondito, nel maggior interesse dei minori e questo deve stare al centro di tutto. Basta, ho parlato già troppo anche oggi, ho superato addirittura la mezz'ora e d'altronde erano domande impegnative, spero di non avermi annoiato troppo e vi do appuntamento la prossima settimana con le vostre domande. Grazie e buona domenica.